Alessandro Lunelli, amministratore delegato Tenute Lunelli, il vostro è un nome noto nel mondo del vino per il brand Ferrari, bollicine di Trento Doc, ma qui ci presenti anche una gamma variegata. Sì, da vari anni sulla tavola abbiamo voluto affiancare a Ferrari anche dei vini fermi e da qui è nata l'idea di oltrepassare i confini del nostro Trentino, che da 110 anni di storia ci ha donato grandi uve Chardonnay e Pino Nero per fare Ferrari, e andare a scoprire grandi vitigni in giro per l'Italia. Da qui nascono alcuni vini nelle nostre tenute, Tenute Lunelli, tra cui ad esempio in Toscana abbiamo fondato, creato in un bel poggio vitato, più di 20 ettari, una tenuta chiamata Tenuta Podernovo, dove facciamo crescere il vitigno principe della Toscana, ovvero il Sangiovese. Questo è un Teuto 2012, che è un vino Sangiovese in purezza, fatto completamente con nuove biologiche, quindi certificato biologico, perché crediamo che ovunque si lavori si debba dare alla terra quello che la terra ci dà, dobbiamo restituirlo, quindi non dobbiamo intaccare il terreno, intaccare il territorio, ma dobbiamo mantenere l'equilibrio vegetativo delle piante. Questo ci aiuta sia per crescere un'uva più sana e quindi fare un vino migliore, sia per aiutare il nostro territorio. Mentre invece io nel bicchiere che cosa ho? Nel tuo bicchiere ho un carapace, che è il nome dell'opera d'arte creata in Umbria, che è la nostra cantina. Abbiamo iniziato all'inizio degli anni 2000 un'avventura imprenditoriale innamorandoci di un vitigno autoctono dell'Umbria, il Sagrantino. Il Montefalco Sagrantino è un'uva, forse la uva più tannica al mondo, quindi è un'uva che io chiamo un cavallo in purezza, un cavallo da domare, un cavallo forte, che se domato però in maniera opportuna riesce a donare grandi gioie e sensazioni. Perché? Perché il Sagrantino ha un'esplosione di profumi e una tannicità così elevata che da un lato al naso riesce a dare grandi sensazioni, aromi e gioia, dall'altro il tannino permette dei lunghissimi affinamenti e quindi il Sagrantino riesce ad evolvere per decenni migliorando ed affinandosi all'interno della bottiglia. Alessandro, Ferrari oltre a questi vini fermi però è anche acqua, un'acqua direi famosa nel mondo del vino. Che cosa avete inventato con la vostra acqua? Questa è un'avventura che inizia oltre 30 anni fa, poiché mio padre e gli zii capirono che il mondo del vino, o chiunque degusti un buon vino, non fa altro che sedersi a una tavola, mangiare un buon cibo e bere dell'acqua, perché anche l'acqua è molto importante. E quindi abbiamo acquisito un'azienda, la Surgiva, che sgorga nel Parco Naturale da Mello Brenta ad alta quota, quindi in un luogo incontaminato, acqua di montagna, un'acqua che ha una caratteristica unica, ha un residuo fisso molto basso, quindi una mineralità molto delicata e questa fa sì che possa accompagnare vini e cibi con grande eleganza, poiché l'acqua, dico, deve essere un gregario del cibo del vino, non deve soverchiare, coprire il gusto, deve essere un gregario molto silenzioso e così la nostra Surgiva ha questo gusto molto delicato. In più, per il rispetto dell'ambiente, proprio perché nasciamo in mezzo alle montagne, la proponiamo solo in vuoto a rendere, solo vetro e quindi grande ristorazione d'eccellenza, grandi catene, ma niente plastica. Buon vino Italy. Grazie mille.